Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con il nostro appuntamento settimanale dedicato ai drop. Vi dico già adesso che la mia è stata una settimana abbastanza povera di attività in quanto ho avuto altri impegni e non ho potuto giocare granché. Infatti mi sono limitato a fare un calo alla notte e una volta le prove di usiride concluse con un 8-1 tipo. Diciamo che abbiamo perso veramente come dei coglioni tantissime partite, abbiamo iniziato a suicidarci, diciamo che le facciamo un po' a casaccio. Non puntavamo propriamente al faro e giocando abbastanza male alcuni match abbiamo avuto quello che ci meritavamo alla fin fine. Con ordine però. Prima di tutto cala alla notte. Il cala alla notte è quello che ho svolto insieme a Panic e ad Alien, quello tra l'altro di cui ho caricato la live sabato pomeriggio in compagnia dei miei due fedeli amici e in cui ho droppato un engramma leggendario per l'arma pesante. Nel video non vedrete quando aprirò l'engramma perché avevo cancellato quella parte del video per sbaglio, però vi dico che ho trovato tipo un oscillatore seghattato, si chiamava così, tipo la mitralettrice dell'orbita morta, non mi ricordo onestamente il nome, comunque l'ho trovata e l'ho smontata perché non mi serviva e non mi piaceva neanche, quindi non me ne facevo nulla. Per quanto riguarda Osirida invece abbiamo fatto 8-1 quindi ho potuto prendere semplicemente i pacchetti che aveva nel proprio inventario fratello Vence sull'Atollo e ho trovato, non mi odiate però, un Gyallor, il mio 4 Gyalloron che ho dovuto smontare perché non me ne facevo nulla. Anche nel video metterò proprio la parte in cui si smonta giusto per farmi odiare un pochino, però era il mio quarto Gyalloron, onestamente non me ne facevo nulla, ne ho uno per personaggio, il deposito pieno, onestamente ho preferito smontarlo. Quindi davvero non mi odiate, sono sicuro che anche voi dropperete il vostro quarto Gyalloron prima o poi, tutta una questione di bucio de culo. E per questa settimana è tutto qui, come ho detto all'inizio del video non ho avuto tempo per fare altre attività, probabilmente farò qualcosa stasera, comunque non volevo tardare all'uscita di questo video. E dicendo questo ragazzi il video volge al termine, prima di salutarci però vi invito a lasciarmi un commento dicendomi cosa avete droppato, dove lo avete droppato e cosa invece avreste voluto droppare. Da parte mia è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!